Carlos Torres, amatissimo attore colombiano, ha conquistato il pubblico spagnolo grazie al ruolo di Charlie Flo nella telenovela La Reina del Flo 1 e 2 e ormai si può dire che è di casa in Spagna. Il canale RTVE infatti gli ha affidato la conduzione dello show di fine anno Feliz 2023 affiancandolo alla bellissima attrice e conduttrice Rosio Munoz e a Cenoa, cantante spagnola di origini argentine. Lo speciale ha visto sul palco più di 90 artisti nazionali e internazionali. Carlos Torres ha affascinato il pubblico con la sua simpatia e galanteria. Rosio Munoz è stata una perfetta padrona di casa e Cenoa ha incantato con la sua classe. Vi lasciamo con gli auguri di questi tre artisti di un felice anno nuovo. Feliz regno! Feliz regno! Feliz regno! Feliz regno!